Noi già ieri sera abbiamo in giunta licenziato una delibera ricognitiva che quantifica in 4,1 milioni di euro la prima stima dei danni. Madri Natura presenta il suo conto con violenza in occasione delle precipitazioni della settimana scorsa, essi ammontavano a 250 mila euro, però capite che parliamo di somme importanti. Abbiamo attivato immediatamente questa ricognizione, abbiamo inviato il tutto a Regione Abruzzo, in uno con tutti i comuni della Regione perché ovviamente noi dovremmo chiedere al Governo lo stato di calamità in quanto i danni sono notevoli. Mi sembra di aver capito che complessivamente in Regione essi ammontino a 30 milioni, per esempio non abbiamo considerato i danni all'agricoltura. Ieri sono andato a comprare dei carciofi, sono molto cari, 3 carciofi 4 euro. Credo che anche questi siano danni indiretti di cui dobbiamo tener conto, quantificarli perché ovviamente poi questi danni andranno in qualche modo risarciti.